Dottore Cascio, gli istituti Maugeri rappresentano un'eccellenza all'interno del presidio ospedaleo di Ribera, dove però sappiamo che ci sono delle cose che non vanno. Ci sono delle criticità che sono state segnalate, che sono di dominio pubblico, non sono delle criticità sconosciute. Sono delle criticità che investono un po' tutta la sanità siciliana e in particolare la sanità agrigentina. Però io qua vorrevo precisare alcuni aspetti di tutta questa vicenda. Intanto la prima è una corretta informazione, nel senso che non sono state chiuse, non è stato chiuso il reparto di medicina, sono stati bloccati i ricoveri programmati, tant'è che il reparto di medicina che per un fatto organizzativo abbiamo trasferito a piano terra, nei locali attivi al pronto soccorso, hanno attualmente una diecina di ricoverati. Quindi i ricoveri all'ospedale di Ribera si fanno. Quali tipi di ricoveri si fanno? Non si possono fare più dei ricoveri programmati per la carenza di personale, però tutti quelli ricoveri che sono definite urgenze vengono regolarmente fatti a Ribera. In questo devo fare un applauso soprattutto ai pochi colleghi rimasti a mantenere questo tipo di attività. Lo stesso vale per l'attività cardiologica ambulatoriale, non è stata bloccata, è un'attività cardiologica che continua e che continua grazie all'impegno della direzione generale che assicura tutte le mattine un cardiologo come prestazioni aggiuntive dell'ospedale di Sciacca e Ribera per seguire tutti i casi dei pazienti cardiologici. Senta, ma questa vicenda, se ne parlo ormai da tanti anni, di evitare lo stesso reparto, quindi il doppione tra Sciacca e Ribera, lei è anche un operatore politico, è stato parlamentare regionale, ma si può trovare un punto di soluzione? Qual è a suo parere la vera soluzione anche a beneficio, soprattutto a beneficio dei pazienti e del territorio? Ma la soluzione è già insita nel piano, cioè nel decreto di rimodulazione di posti letto. In effetti Ribera è stata individuata come reparto di geriatria. La medicina è un reparto collaterale al reparto principale di geriatria. La medicina Ribera ha un suo significato per quello che è stato detto poc'anzi da parte del dottore De Cicco, perché assicura anche consulenze di tipo internistico a una serie di pazienti che sono alloggiati e ricoverati presso la Mauceri e che molto spesso hanno delle patologie di tipo internistico e quindi è necessario, perché in ogni caso la Mauceri non ha queste competenze e queste professionalità. però già alla domanda ho risposto. È diversa, nel senso che qua principalmente sarà un reparto di geriatria, tant'è che la struttura complessa, cioè il primario previsto per Ribera attualmente è il primario di geriatria, non è il primario di medicina. È come se la medicina può fare anche un servizio di debiatologia, può fare un servizio di gastroenterologia, qua vi è un servizio di un reparto di geriatria con alcuni posti letti di medicina, che è una cosa diversa rispetto a Sciacca.